Allora, intanto i sondaggi danno un testa a testa, lo davano anche in Umbria. Abbiamo vinto con 20 minuti di scatto, ma lo dico solo diciamo che non è altissimo. Allora, diciamo, non lo dico per ottimismo, penso che qui davvero la vittoria si dà la portata e penso che già il fatto che si parli di una possibile vittoria per il centro-destra sia una grandissima rivoluzione e assolutamente sì, cioè se noi dovessimo vincere anche in Calabria, se noi dovessimo ancora di più vincere in Emilia Romagna, quella che è la cassaforte della sinistra in Italia da tutti i punti di vista, io un minuto dopo chiederei le lezioni anticipate.